Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato due contenitori di marijuana abilmente occultati da un soggetto gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. Il responsabile con la convalida dell'arresto è stato condannato anche al pagamento di una multa. In particolare i finanzieri della compagnia di Castellamare di Stabia dopo aver appreso nell'ambito di un'autonoma attività infoinvestigativa di una fervente attività di spaccio di sostanze stupefacenti in un'abitazione nel comune di Lettere in provincia di Napoli hanno eseguito diversi appostamenti volti all'individuazione del luogo esatto in cui fosse celata la droga. Una volta individuato l'obiettivo i militari operanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 400 grammi di marijuana custodita in un involucro termosaldato in un barattolo di vetro. Il tutto era abilmente occultato all'interno di un sottoscala chiuso con un lucchetto la cui chiave era in possesso dello spacciatore. L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e a seguito dell'udienza di convalida da parte dell'autorità giudiziaria di Torre Annunziata condannato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi nonché alla multa di 2.800 euro.